salva a tutti ragazzi bentornati su farming simulator 22 e oggi vi porto un nuovo video sulla land of italy ma prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale a lasciare sempre un bel pollicione all'insù e poi vado a ricordare anche in descrizione ci sono tutti i miei link di affiliazione giants che potete usare per acquistare tutte le varie cosine riguardano farming tra cui anche se non ancora non l'avete fatto potete acquistare anche l'espansione premium che uscirà vi ricordo domani martedì 14 novembre e lo potete fare anche attraverso il mio link che trovate qui sotto così facendo dovrete aiutare la mia partner a crescere allora ragazzi intanto buon inizio settimana a tutti e ripartiamo la settimana sempre qui sulla land of italy allora di ieri è uscito il video dei collezionabili e angelo ringrazio angelo intanto che mi ha segnalato un altro collezionabile che lo andiamo a trovare subito subito che si trova sempre qui al al borgo e si trova precisamente sopra quella torre lì quindi l'unico modo per arrivare in quella torre lì bisogna mettere la modalità volo assolutamente quindi ci sono ancora altri collezionabili raga quindi non solo i 18 che vi ho fatto vedere come potete vedere qua ce n'è un altro quindi questa qua si trovano anche in posti dove non ci si può arrivare perché qua per arrivare sopra questa torre per forza di cose bisogna utilizzare la modalità volo perché non ci sono altre strade diciamo no quindi mo ce lo andiamo a prendere venticinque mila euro si sicuramente quindi ce ne saranno ancora altri perché in questo momento sono 19 19 sicuramente quindi ce ne sarà ancora qualcun altro comunque sia fatemi sapere nei commenti se li trovate qualche altro collezionabile che non ho trovato e lo andiamo a trovare poi nei prossimi video allora detto questo i soldi che abbiamo fatto collezionabili ragazzi ce li teniamo perché insomma ci aiuteranno ad andare avanti poi non è che fanno poi collezionabili fanno parte della mappa quindi ci hanno dato la possibilità di trovarli in compenso insomma in cambio di soldi quindi non è che mi sono messi i soldi quindi ce li teniamo ragazzi questi qua che ci faranno davvero comodo allora intanto oggi che dobbiamo fare allora dobbiamo innanzitutto occuparci degli animali quindi dobbiamo andare ciò veramente ciò da imballare e questa volta lo andremo a fare con una nuova pressa non useremo la gallignani ma bensì la eston 4009 allora intanto devo aspettate devo un attimo ripristinare il mio 180 che stava ancora alla latteria quindi questo lo spostiamo un po qua e lo useremo per andare a imballare ok allora andiamo ce la prendere a noleggio la affittiamo questa volta facciamo balle quadre così pure per cambia pressa ragà sono sempre con la gallignani e andiamo usare la eston eccola qua 4009 questa la trovate sul mod up ufficiale anche per console quindi trovate tutto la tutto lì va bella prendiamo così ragà versione eston perché qua c'è pure altre versioni case new hall insomma tantissime configurazioni però a me la voglio usare prendere eston 4009 ok fare a led questo non ci interessa perfetto dai noleggiamo c'è la 6003 eccola qua ragazzi eccola qua e l'andiamo ad attaccare al nostro mitico 180 ok allora è vero che è vero che questa questa pressa qua fa delle balle strane particolari che non diversi da quelle standard del gioco quindi come ben sapete gli autoload non possono caricarle però però raga io ho trovato il modo di caricarle che adesso vi farò vedere allora ci portiamo al campo anche il rimorchio il rimorchietto qua allora agganciamo vai passiamo all'officina perché lo dobbiamo andare a configurare questo rimorchio perché l'autoload non ci serve in questo caso o me sono incastrato me sono incastratino ok eccoci qua andiamo un attimo in officina a configurarci il rimorchio lo mettiamo caricamento manuale ok perfetto perché l'autoload in questo caso non ci non ci serve raga non ci serve allora mettiamo usiamo pure la follow me quindi dobbiamo fare control destro f ci sta l'operaio ok però dobbiamo mettiamo distanza facciamo 10 metri ok perfetto così facciamo un viaggetto unico andiamo insieme raga no se no devo fare due viaggi la follow me usiamo la follow me anche questa trovate sul modab solo per pc ed è molto comoda quando dovete trasportare più di un mezzo no quindi con un viaggio portate più mezzi ok allora valle che purtroppo le nostre pecorelle stanno quasi a secco di erba quindi dobbiamo per forza occuparci degli animali e dobbiamo comprare anche un po di frumento per le galline perché non ce l'ho più devo controllare nel silos ma mi pare che era finito il frumento che avevamo fatto l'altra volta quindi mi sa che ci tocca comprarlo così ci sistemiamo un po gli animali dopodiché poi possiamo mandare avanti il tempo stiamo ad aprire quindi abbiamo l'ultima volta abbiamo iniziato a lavorare il vigneto anzi ora si devono andare un attimo al vigneto veramente pure aspetta oh porca ma che ci sta qua qua raga spesso e volentieri c'ho c'è tipo una collision che non si vede raga sto ponticello non so se vi capita anche a voi allora andiamo un attimo al eccolo qua questo avevamo finito di fertilizzare quindi ce lo andiamo a sistemare qua lo lascio qua alla cantina raga tanto ora tra poco questa cantina diventerà nostra quindi ora l'attrezzatura per il vigneto le lascio proprio qua direttamente qua raga guarda lo metto qua dentro eh mettiamolo qua sotto qua sotto dai lo lasciamo qua tanto questa tra poco diventerà nostra sta sta cantina qua perché mo la useremo più avanti ok allora mettiamo che facciamo le balle da 180 ok dispieghiamo dispieghiamo qua il tutto ok abbassiamo accetto oh lo spago non ci ho messo lo spago che io uso l'add-on dello spago raga a me mi piace quindi lo uso oh porca miseria aspettate eh ok andiamo a prendere un pallettino di dispago di dispago di dispaghetto di dispaghetto casomai prendiamo questo qua mettiamo new holland questo della new holland vai 700 eurozzi avviciniamolo un po ok carichiamo tutto lo spago e possiamo partire con la nostra bellissima eston 4009 quindi io dico questa volta facciamo quelle quadre eh se per non usare sempre la gallignani ragazzi fa sempre eh le balle tonde ogni tanto possiamo pure cambiare fa così no che ne pensate secondo me è ottimo poi eh era da usare almeno una volta la la eston 4009 su questa mappa ci sta alla grande e adesso poi vi farò vedere che soluzione ho trovato per caricarle con l'autoload allora tutti i rimorchi autoload non le caricano perché sappiamo che fa delle balle diverse da quelle standard del gioco quindi autoload non le riconoscono però ho trovato ne ho trovato uno che le riconosce raga che le riconosce quindi allora intanto partiamo facciamo qualche balletta e poi vi faccio vedere come eh come faccio insomma no facciamo tutte ballettine da 180 poi queste le carichiamo tutte e le portiamo tutte alle nostre pecorelle tanto queste sicuramente le prendono le vogliono tutte quindi le scarichiamo direttamente al come si chiama la alla stalla delle pecore senza che le mettiamo dentro al come si chiama al capanno poi le dobbiamo ritirare fuori quindi le scarichiamo direttamente tutte là guardate che bella però raga eh guardate che spettacolo poi con il 180 poi se c'era il 180 con la livrea quella fiat agri era uno spettacolo vabbè che lo possiamo sempre cambiare eh il la livrea del 180 quindi eccole qua le ballettine vedete vedete che carine allora come farò ma vi spiego intanto mentre imballiamo allora userò delle forche quindi userò il trattore con le forche ma non queste delle csz infatti queste le andrò a vendere ho trovato delle forche autoload per le balle che che caricano queste qua della eston si tratta delle forche che ho già portato nella campagna france che sarebbero quelle di black sheep poi vi faccio vedere quali sono e ho provato quelle giusto per fare una prova e le carica raga le carica alla grande e quindi useremo quelle là e le carichiamo poi al al rimorchio questo qua che ci abbiamo quindi facciamo un misto tra autoload e caricamento manuale oggi eh ok mentre quelle le forche quelle autoload delle csz non le riconoscono dice balla non supportata e quindi ho fatto una prova preso quell'altre quelle di black sheep e funzionano alla grande alla grandissima direi eccole qua sembrano piccoline ma sono grandi raga eh sembrano piccoline cioè so porte di lunghezza ma sono belle grandi eh sono da 180 questo ok perfetto facciamo la carta ballettina e poi iniziamo il caricamento il caricamont caricamont guardate che bello però eh che spettacolo bellissima no cioè si deve usare questa questa imballatrice raga cioè non si poteva non usare sulla land of italy insomma raga pure se gli autoload non non le riconoscono ma almeno una volta bisogna usarla assolutamente comunque vi ho trovato una soluzione ragazzi miei ok e sto a fare quelle da 180 e non da 240 proprio per vabbè alla fine è uguale eh però per fare qualche balletta in più tanto la quantità è sempre quella per carità però insomma per caricare qualche balletta in più sto a fare quelle un po' diciamo più piccoline tra virgolette perché queste pure sono grandicelle ok ok dopodiché nel prossimo episodio eh mi sa che ci riandiamo ad auto occupare di nuovo del vigneto perché là dobbiamo andare un po' avanti voglio iniziare a fare sto cacchio di vino dobbiamo iniziare a fare i soldi ma con questi soldi qua veramente ragazzi ho il debito ho 250.000 euro di debito non so sto indeciso se ridarlo così ce lo leviamo ma vediamo un attimo almeno devo un attimo decidere perché devo vedere un attimo pure quello che voglio fare se investi qualche soldo su qualcos'altro vediamo un attimo ragazzi devo un attimo vedere il quello che voglio fare insomma nei prossimi episodi perché non vorrei che poi restituisco i soldi e poi mi riservano capito vediamo come va come va ok dai io direi che ci possiamo fermare poi queste due tre andanucce me le finisco io poi finiamo questa iniziamo a il caricamento dai così facciamo vi faccio vedere un po' quali sono queste forche ok dai ci siamo eh ci siamo perfetto ok ah fermiamoci un attimo qua dai spegniamo tutto e andiamo allora noi ce le facciamo portare qua direttamente queste forche senza che riandiamo in farm o al negozio ok allora le forche quelle che eh dico io queste qua le trovate sul motab ufficiale allora eh intanto dobbiamo andare a caricaballe le troviamo categoria caricaballe sono queste qua di black sheep io ve le ho portate già sulla campagna francesi eccole qua pro bail grab autoload si chiama pro bail grab autoload ce ne sta una per le balle quadre una per le balle tonte a noi ci serve questa qua per le balle quadre quindi eh vediamo il tipo di aggancio tre punti palagomato a noi ci serve caricatore frontale naturalmente ok eh grasso no non so perché ho scaricato la mod del grasso la dovevo levare a raga eh colore va bene questo e ce li andiamo a comprare per 3.000 euro ok ci andiamo a vendere queste qua delle CSZ che non ci servono più ok perfetto e mo carichiamo vi faccio vedere come come carica o come carica allora questo qua mo lo lasciamo qua al centro e lo andiamo a caricare poi quindi facciamo un caricamento diverso oggi no un misto tra auto no queste che stacchi quelle il rimorchio ok facciamo un misto tra autoload e e caricamento manuale insomma dai ok agganciamo eccole qua mettiamo posizione operativa è operativa questa si ok l'unico problema di queste forche è che vi dovete mettere per caricarle per caricare la balla piuttosto di lato per forse il triggerino è un po' è un po' spostato non lo so ragazzi perché se andate di di fronte così non ve le carica vedete vedete che non le carica come vi spostate un pochino vedete di lato ve le prende l'unico diciamo difettuccio di queste di queste forche è questo qua ok oh e daglie ecco qua queste tre la volta ne riusciamo a prendere non serve neanche il pesetto vedete quindi le riesce a caricare tranquillamente il nostro olandini quindi facciamo così vedete come le prende in modo automatico l'autoload a queste forche funziona mentre alle csz non funge non funge quindi facciamo così guardate qua che bello oggi facciamo così e andiamo e facciamo un'altra fila da tre ok che ve ne pare quindi se volete usare la eston sappiate insomma che c'è questo ci sono queste forche per caricare le sue balle insomma no se volete caricarle così in modo automatico ok vedete il vostro Andrew come vi risolve i problemini i problemini ok mettiamo qua ok facciamo così guardate qua che che precisione che precisione eh così pure è più carino no rispetto all'autoload quello normale che si è più veloce però insomma è più bruttino da vedere o no ecco qua questo pure è fatto noi ci mettiamo un'altra filetta a fianco allora perché ho sono andato all'officina per modificare il carrello qua l'ho messo il caricamento manuale per un semplice motivo perché mettendo il carrello manuale abbiamo a disposizione poi le cinghie per poterle legare se lo lasciamo automatico le cinghie non ci stanno raga solo per questo motivo qua allora io direi di continuare così abbiamo finito tanto ok prendiamo ste due andanucce e poi andiamo a scaricare alle pecorelle andiamo a scaricare guardate che spettacolo che bello queste poi le scarichiamo naturalmente tutte alle pecore mi servirebbe un secondo campetto ad erba quindi prossimamente visto che ho qualche soldo forse qualche soldino da investire in un altro campo dovete quale perché mi serve almeno un'altra ad erba perché qua ne escono pochine con due campi già si va meglio secondo me comunque eccoci qua abbiamo terminato anche questo facciamo l'ultima l'ultima andanuccia andanuccia perfetto no guardate qua che spettacolo ok è andata è andata raga allora votiamo pure questa allora votiamo qua via votiamo tutto perfetto ok carichiamo quest'altre andiamo andiamo con l'autoload dai carichiamo questa ok andiamo rimasta 1 e 2 giusto perfetto perfettissimo ehi ok andiamo andiamo a scaricare 3 e 6 quando ne sono uscite 9 12 13 balloni dai è più o meno quello pure con le le balle tonde è più o meno quella la quantità che era uscita questo lo abbiamo attaccato però sennò ho il presentimento che cadono queste e poi dobbiamo riniziare di nuovo quindi facciamo così eeeh andiamo attaccarle perché sennò vediamo se riusciamo ok attacchiamo tutto perfetto andiamo a caricare l'altra l'ultima e stiamo a posto e possiamo riandare a casina a casina a posto eeeh no 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 eeeh no no oh oddio che stava a combinar raga stava a far un macello infortuna l'avevo attaccate avete visto se non l'avevo attaccate tutte per terra andavano ok ci siamo torniamo in farm a questo punto speriamo che ce la fa ok attacchiamo tutto e ce ne torniamo in farm con le nostre belle ballette di erba fresca tutte per le nostre belle pecorelline andiamo allora mettiamola a follow me così torna pure il nostro 180 allora aspettate aspettate ctrl f ok mettiamo un attimo sempre distanza mettiamo 10 no 10 piano andiamo dai soffrirà un po' i landini qua mamma mia poverino forse era meglio che ci ha attaccato il 180 però ormai è andata raga è andata oh è stretto no che ci sta il paletto maledetto aspettate eh l'ho fatta ok dai che cariconi eh quello si incastra eh lo sapevo aspettate eh il mio operaio è in difficoltà naturalmente eh perché poi fa le stesse manovre che faccio io eh se io vado in faccia al muro va in faccia al muro pure lui non è che che dice no se vado là vado a sbatte faccio una via un po' meglio no fa la stessa strada che faccio io allora contro l'ef piano piano guarda guarda che sta combinato forza torniamo in far forza non si vede una ceppa eh questo coso qua un po' di salita c'è alla grande ragazzi alla grande qua eh fortuna ho preso un po' di rincorsa eh ecco qua finita l'effetto della discesa cioè della rincorsa dai che ce la facciamo dai landini dai che ce la puoi fare landini 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 si vabbè dai che ce la falla grande però dai stiamo di prima eh però dai che dopo una salita c'è sempre la discesa eh quindi qua poi devo stare attento a quando entro in farm a quella la una curva un po' stretta ho paura che mi cappotto quindi la dobbiamo fare attenzione allora questa è la curva quello che vi stavo dicendo qua dobbiamo fare assolutamente piano assolutamente raga oh mamma mia abbiamo fatta dai meno male ok in modo che scarichiamo al volo oggi raga un video un po' più lungo ma sono cose che volevo farvi vedere tutto insomma ok allora stacchiamo e andiamo si scarichiamo guarda quello guarda questo no tu devi andare dietro ok oh e vabbè raga può succedere anche più bravi eh può succedere anche più bravi queste cose ecco arriva arriva sentite l'agnellino come strilla poverino c'ha ragione c'ha fame c'ha fame oh ok perfetto dai mangiate mangiatene tutte guardate come mangiano raga ok questo pure è fatto ci dobbiamo mettere bene sennò guardate è così eh andiamo a metterci così vedete lo fa un macello lo so raga però tutte tutte se le prendono non è che tu dici ne lasciano qualcuna no no allora facciamo così raga eh scusate ma no teniamo più queste guarda ma soprattutto sopra le uova sono andate le mie uovette qua no sono andate dentro qualcosa oh eh 60.000 vediamo un attimo tanto starà un po' più della metà eh allora vabbè qua dobbiamo comprare il frumento abbiamo detto vedete un po' più della metà il latte ne fanno poco la lana abbiamo pure la lana da vendere vabbè ragazzi io mi fermo qua la prossima volta torniamo insomma al vigneto torniamo al vigneto perché dobbiamo fare dei lavoretti ok queste le uova me le metto qua raga inutile che le vada a vendere due pallettini di uova non conviene ok va bene dai spero vi sia piaciuto il video iscrivetevi al canale lasciate sempre un bel pollicione in su vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti